il problema non c'è più ah non c'è più? no questa mattina io ho incontrato Pier Gallini il problema non c'è più per cui le catene le potete togli poi fate come volete in che senso il problema non c'è più? il problema è risolto il problema è risolto gli aspetti i passaggi sono cose il problema è risolto però vi dico anche questo perchè è giusto che voi io sono una persona seria io sono una persona seria voi siete venuti da me sabato io vi avevo chiesto 10 giorni e voi non avete avuto la bontà di aspettare 10 giorni che voi non fa niente siccome sono una persona seria soprattutto io vi avevo detto 10 giorni voi invece non avete avuto aspettare 10 giorni ma va bene però io posso dire ma l'avete fatto quello per cui l'avete fatto quello per cui l'avete fatto le motivazioni per cui l'avete fatte solo che voi vi avete chiesto un incontro io l'incontro ve l'ho dato in tempo reale vi avevo chiesto 10 giorni voi 10 giorni non l'avete dovuto aspettare avete dovuto fare la manifestazione di protesta fatela perchè è legittime però io queste cose le devo rimarcare che hai capito perchè se io fossi stata una persona che non vi aveva ricevuto io fossi stata una persona che non vi aveva ricevuto si però se fossi stata una persona che non vi aveva ricevuto vi aveva sbattuto la porta in faccia voi fate ragione io vi ho ricevuto e vi ho detto anche aspettate 10 giorni siccome il parcheggio mi sembra che ancora c'è quindi non vedo la difficoltà delle vostre attività commerciali stante che il parcheggio a meno che la manifestazione ha altri file capisci allora in questo momento c'è la paura se tu vieni da me e mi chiedi io ti dico dammi 10 giorni tu mi devi dare 10 giorni se no da me non ci devi venire questo è il concetto tu mi chiedi un incontro vieni da me e mi chiedi 10 giorni io ti dico dammi 10 giorni e tu mi dici va bene allora tu mi devi dare 10 giorni anche perchè in questo momento il parcheggio qua c'è chiuso non è che tu allora avevi ragione di protestare se stamattina qua non c'era più il parcheggio siccome il parcheggio stamattina qua c'è il tuo motivo di fare la tua protesta io la vedo in un certo punto noi abbiamo detto noi abbiamo scusa se posso noi abbiamo risolto